Quali sono le difficoltà che deve affrontare uno scrittore nel momento in cui decide di fare un romanzo storico? Tra le difficoltà che vi sono nella realizzazione di un romanzo storico vi è sicuramente il fatto che lo scrittore deve documentarsi prima di scrivere il romanzo se vuole rendere verosimile la sua storia. Può anche arricchire all'interno del suo romanzo con personaggi realmente vissuti. Questo rende ancora più verosimile la sua storia. Se come Manzoni decide di far credere al lettore che la sua storia è reale, il compito è ancora più arduo. Deve far sì che tutto sia verosimile. Deve documentarsi bene e nel momento in cui decide di inserire dei personaggi realmente vissuti deve essere coerente con la vita vissuta dei personaggi storici inseriti nel racconto. Nel romanzo storico l'autore ha la necessità di documentarsi per rendere più verosimile la propria storia.